la mia ragazza fa shopping panino alla salsiccia grigliata sul lungomare di napoli anzi siamo in via caracciolo da napoli e abbiamo visitato già la piazza del perviscito via caracciolo zazzà sul mare qui è sempre bello sta contrattando con la venditrice stai chiedendo lo sconto sul prezzo è molto alta un chilo di salsiccia si fa rispettare la mia ragazza sta litigando pagare stati si se c'è quando sei che ti aspettare 555 10 che c'è ma che ci ma mi sembra strana è una volta